Ciao ragazzi bentornati nel canale, oggi video news un po' come il telegiornale voglio parlarvi delle novità in casa Roland, quindi più nello specifico delle batterie elettroniche come tanti di voi sanno Roland poco fa ha acquistato il marchio DVDRAMS, DW per quelli più internazionali che è un noto marchio di batterie acustiche, quindi probabilmente ci sarà qualche sviluppo interessante per il mondo delle batterie elettroniche ibride, questo presumo io vediamo se sarà effettivamente così, ma Roland poco fa ha anche rilasciato 6 nuovi modelli quello che andiamo a fare in questo video è cercare di capire che cosa è cambiato e facciamo anche un paragone con i modelli vecchi, adesso vi spiegherò perché uso le virgolette anche per nuovi i modelli in questione sono la TD17KV2, la TD17KVX2, leggo perché se no non mi ricordo tutte ste sigle TD17KV2, poi VAD307, VAD504 e VAD507, le batterie con denominazione VAD sono le Acoustic Design come vedete questi sono nomi già presenti nel catalogo Roland, solamente hanno aggiunto il 2 oppure per i modelli Acoustic Design tipo VAD307 va a sostituire il 306, per il 504 sostituisce il 503 e logica dice giustamente il 507 viene sostituito dal 506, ma cosa cambia anche con i modelli della next generation, facciamo un po' gli internazionali oggi? Beh in realtà cambia ben poco ed è quello che voglio spiegarvi in questo video, per quello dico nuovi tra virgolette perché questo può essere definito un refresh di metà vita ecco non sono dei modelli nuovi veri e propri però voglio spiegarvi insieme allora partiamo dalla TD17KV paragonando il modello vecchio e il modello nuovo già guardando vediamo che le differenze sono poche, sostanzialmente la differenza principale e unica diciamo sono i piatti praticamente passiamo da 12 a 14 pollici per quanto riguarda il ride e da 8 a 12 pollici per quanto riguarda il crash e ci sono questi nuovi modelli che in realtà nuovi nuovi non sono perché erano già presenti nei modelli di fascia più alta, sono i modelli T, T inteso come sottile, come leggero quindi sono dei modelli che rendono il feeling del piatto un po' più naturale come tutti ben sappiamo la parte dei piatti è quella un po' più debole nelle batterie elettroniche quindi anche un marchio come Roland sta cercando di lavorarci quindi per quanto riguarda TD17KV, KV2 la differenza appunto sta solo nel ride che diventa tre zone con anche la campana cosa che prima non c'era e da 14 il crash da 12 pollici fondamentalmente è solo questa la differenza per quanto riguarda la TD17KV, KV2 le differenze rispetto alla prima generazione anche qua sono solo legate ai piatti praticamente perché vedo qua che passiamo da un crash da 12 pollici a un altro crash da 12 pollici però il modello T, quindi i crash sono uguali ma la versione leggera e poi invece il ride passa dal 13 al 14 sempre T, la versione leggera basta, that's it, è solo un aggiornamento di questo tipo ovviamente poi per i modelli TD17 la centralina rimane uguale ma c'è un aggiornamento del firmware che passa al 2.0 con delle piccole modifiche che dopo vi elencherò ora passiamo al modello TD27KV2 che va a sostituire il KV di prima generazione e qua c'è un aggiornamento che secondo me è molto interessante che è quello del charleston già ad occhio vedete che si passa da un piatto singolo con sotto il controller al doppio piatto ma soprattutto questo è il modello digitale per quello VH14D e digitale è sinonimo di comunque migliore sensibilità, miglior feeling, miglior controllo io purtroppo non l'ho mai utilizzato quindi non posso dirvi se effettivamente è così ma sentendone parlare in giro comunque è un bello step in avanti soprattutto dal VH10 quindi si salta anche il 13 che è presente come che era presente adesso non so se è ancora così in modelli come la TD50 quindi il charleston sicuramente è un aggiornamento molto importante se non il più importante tra l'altro è il top di gamma questo charleston e poi anche qua i due crash cambiano il primo crash rimane un 12 con il profilo teen quindi più leggero poi il secondo crash diventa un 14 quindi più grande sempre col profilo leggero cosa che prima non c'era e poi il ride in questo caso rimane invariato sempre da 18 pollici digitale la centralina è là sempre la TD27 anche qui con un aggiornamento del firmware dopo vi spiegherò in breve che cosa cambia invece ora andiamo a guardare i modelli acoustic design partendo dalla VAD307 che sostituisce la VAD306 allora quale differenze e quali sono? beh innanzitutto l'hardware, le aste cambiano leggermente noi a scuola abbiamo la 306 ci troviamo bene le aste in realtà mi piacciono sono anche comode per alzare e abbassare la batteria soprattutto quando la utilizzano gli allievi quindi sicuramente l'hardware è una modifica importante non strettamente necessaria ma comunque è sempre bene farla se ci sono dei miglioramenti e poi anche qua si va a cambiare i crash quindi si passa da crash da 12 pollici normali a 12 pollici T quindi leggeri e poi il ride da 13 pollici passa a 14 sempre della serie T quindi più leggeri quindi vedete che tutti questi aggiornamenti soprattutto comprendono i piatti nella versione più sottile e leggera basta è già finito qua non c'è molto però è un bel aggiornamento che male non fa poi invece passando alla 504 VAD504 rispetto alla 503 che era il modello precedente abbiamo anche qua come la TD27 il Charleston digitale perché la centralina lo supporta e poi abbiamo la modifica anche qua degli stand come la 307 e poi per quanto riguarda i piatti la serie T era già presente quindi in realtà non è cambiato nulla quindi in questo caso hardware e Charleston e qualche piccolo aggiornamento legato alla centralina che è la TD27 stesso discorso per la VAD507 che sostituisce la 506 sempre modello TD27 con le solite modifiche e aggiornamenti l'apparenza della centralina è uguale anche qua introduzione del Charleston digitale rispetto al VH10 che c'era prima e poi cambiano le aste anche qua i piatti erano già sto controllando esatto della serie T quindi quelli più leggeri quindi sotto quell'aspetto crash, ride non è cambiato assolutamente niente quindi alla fin fine aste aggiornamento di centralina e Charleston digitale per il resto è tutto quindi come vedete per quanto riguarda l'hardware sono solo piccoli aggiornamenti difatti i nomi sono pressoché gli stessi ma anche per le centraline perché sono lo stesso modello loro parlano di versione 2 ma le modifiche alla fin fine sono solo legate al software al firmware ad esempio la TD17 parlano di 20 nuovi preset e 26 nuovi sample quindi suoni singoli e qualche aggiunta di multi effetto invece per quanto riguarda la TD27 leggo qui che abbiamo 75 kit in totale ora di cui 10 nuovi e 3 di quelli già presenti e più famosi modificati quindi hanno aggiornato un po' quelli più popolari e anche qui sono presenti dei nuovi sample e ci sono stati dei miglioramenti sotto l'aspetto personalizzazione dei suoni creare dei layer hanno modificato un po' quella parte e resa migliore ve lo dico comunque questi aggiornamenti legati alle centraline arriveranno anche forse entro la fine dell'anno da quello che ho capito anche per chi già ha queste centraline quindi si potranno aggiornare e metterle quindi allo stesso livello di questi modelli che inizialmente avranno l'esclusiva quindi se prendete una VAD 504 all'inizio avrete solo voi quell'aggiornamento poi chi avrà la 503 ad esempio o la TD27KV ce l'avranno anche loro in un secondo momento senza problemi la domanda sorge spontanea sono nuovi modelli vale la pena fare il salto? beh vi dico la mia non vale la pena se avete già una VAD 306 non passate alla 307 non ne vale assolutamente la pena tenete la vostra batteria l'aggiornamento di centralina lo potrete fare anche voi c'è solo questa differenza dei piatti però se state valutando l'acquisto di una batteria elettronica nuova può essere interessante come momento perché i modelli vecchi ricordiamolo con le virgolette probabilmente scenderanno un po' di prezzo quindi potrebbe essere interessante se volete andare su Roland e spendere qualcosa di meno andare su questi modelli sempre se si abbasseranno e poi se invece volete avere già i modelli nuovi con i piatti più sottili che non ho ancora provato quindi non so se c'è una grande differenza allora in ogni caso potete comunque valutare di prendere quelli nuovi se qualcuno di voi ha una batteria con i piatti della serie T fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi trovate perché sono molto interessato al tema quindi interessante che Roland abbia fatto un aggiornamento un refresh di questi modelli prima di aspettare il nuovo modello i nuovi modelli che magari arriveranno ancora tra qualche tra qualche anno quindi ci può stare piccolo aggiornamento però ripeto nuovi è un po' un parolone spero che questo video abbia fatto un po' di chiarezza sui nuovi modelli Roland è sempre difficile districarsi da tutte queste sigle i vari modelli anche io ci ho messo un attimo a capirlo per quello mi sono dovuto fare un documento al computer se il video ti è stato utile soprattutto ti è piaciuto lascia un like e un commento e se ti fa piacere e vuoi supportarmi per quanto sto facendo qui su youtube iscriviti al canale attivando la campanellina così rimarrai aggiornato ogni qualvolta pubblico qualcosa di nuovo e inoltre ti ricordo che sono presente anche su instagram ci vediamo al prossimo video ciao ciao